Ci portiamo sulle strutture che sono ragionate, le tocchiamo, le maneggiamo, sono ferme, guardiamo le loro idee di fede, guardiamo i fissaggi, la nostra lucina attaccata, arriviamo qui, stacchiamo il coprepitò e per evitare di dimenticarcelo lo portiamo dentro, chiudiamo la portata, quindi coprepitò libero e pitò libero, una soluzione di questo porta a non funzionare. Successivamente controlliamo il nostro bordo alare, il nostro bordo alare deve essere liscio, privo di infezioni e su questo aereo abbiamo dei vortex generators, i vortex generators devono essere tutti presenti e non rotti, li controlliamo, li contiamo e guardiamo che siamo attaccati. Successivamente controlliamo la luce e lo strobo.